A tutti i nostri amici di Radio Libere, dal cuore il vostro chiusibo, ciao! Ciao a tutti da Radio Libere, io sono Daniela e stasera qui sono con un ospite un po' particolare, un ospite che si chiama Antonio Pagnini, in arte Tony Teangelis, che molti di voi forse conosceranno. Ciao Antonio! Ciao a tutti alle Radio Libere di Agliana che seguono molto frequentemente il Santo Amato Live perché qua ci troviamo e Daniela ti ringrazio per questa intervista che hai voluto che io rilasciassi proprio per le Radio Libere di Agliana, quindi un saluto a tutti coloro che vi seguono con attenzione. Grazie, perché io so che te sei nato proprio a fare lo speaker e non a radio, raccontami un po'. Esattamente, la mia esperienza radiofonica è partita da Radio Pistoia, un bel po' di anni fa si parla del 83, quindi insomma sono passati un po' di anni, sta a significare anche che sono un po' anziano, però dopo questa bella esperienza radiofonica che è durata per tantissimi anni, una quindicina d'anni, ho anche deciso poi di prendere un altro percorso perché mancavano le radio in FM locali e allora mi sono inventato il Live e quindi questo è il Santo Amato Live che è nato nove anni fa. E come mai Tony De Angelis? Hai cambiato questo nome? Allora, lei Daniele è un po' troppo curiosa, comunque facciamo veloce a spiegarlo. Dunque, allora, Antonio non mi piaceva, quindi era automatico Tony, Pagnini nemmeno perché non suonava radiofonicamente parlando e allora è venuto fuori un De Angelis così dalla mia testa ed è stato accettato e approvato da tutti, quindi Tony De Angelis è partito ed è qua. Bene, allora dopo parliamo del Santo Amato Live, ma io intanto volevo sapere una cosa. È stato responsabile di una grossa ditta di filati di Prato, di cui conosco le due ex colleghe, mi hanno raccontato che eri responsabile appunto dell'ufficio commerciale, delle più prestigiose filature di Prato e per quanto riguarda anche la progettazione di filati. Vabbè, no, dunque, ora non esageriamo, ero il responsabile dell'ufficio commerciale, poi con l'esperienza qualcosina veniva fuori, però non mi sono mai spacciato come tecnico, ma solamente parlatore o venditore appunto di filati, esatto. È già abbastanza perché ora sei promotore di questo Santo Amato Live, di cui fai anche il presentatore, dove ci sono gruppi che vanno da, andate appunto da ottobre fino a luglio, mi sembra. Sì, allora la stagione è iniziata con l'anteprima il 29 di settembre con i New Trolls e poi andrà avanti sino ai primi di giugno. Ci sarà poi una pausa, mi sposterò poi in centro per fare Pistoia Suona Live e poi ritornerò a casa per la finestra estiva che partirà intorno al 24-23 di luglio e toccherà la prima decada di agosto. Ecco, appunto andiamo nel posto, nella moda, quello che ci sarà stasera. Come nasce questa Fashion Night? Da cosa ti è venuta questa idea? L'idea di fare una sfilata era una voglia che io avevo, stimolato anche da varie presentazioni che avevo fatto per altre organizzazioni e ho detto ma perché non la facciamo anche noi qua? e quindi siamo arrivati alla dodicesima edizione qui. Poi ne ho fatte altre quattro in altri luoghi, ma comunque sempre con, diciamo, la cappella Fashion Night. E perché un luogo potrebbe essere il luglio pistoiese? Eh, potrebbe essere sì il luglio pistoiese, però bisogna avere anche, diciamo, come ti posso dire, la volontà di volerlo fare. Io sono a disposizione. E qui quante sfilate fai in un anno? Allora, la cadenza delle sfilate che facciamo qui al Sant'Amato Live sono due. La versione invernale che la facciamo verso fine ottobre e la versione estiva che facciamo verso fine maggio. Ok, Tony, io ti ringrazio. Dimmi qualcosa, chi ci sarà di prossimi ospiti qui al Sant'Amato Live? Qualche curiosità? Bene, allora, diciamo che il programma di ottobre sta giungendo al termine, però si chiuderà con, diciamo, la festa di Halloween. Infatti, mercoledì 31 ottobre avremo i Rocky Movie, che è un gruppo che, appunto, prende i pezzi di successo dai film, quindi film con taglio rock, e quindi sarà tutta una serata proprio presa dai film e riportata sul palco con le hit che hanno fatto successo anche per i film. Una su tutti, Rocky 4, Rocky 2, Rocky 3, insomma, Pretty Woman. Quindi sarà una serata dedicata a, diciamo, a quello che è l'argomento, no? Halloween, e quindi il tema sono gli zombie. Quindi, diciamo, coloreremo questa serata, grazie a tutti questi successi dai film, con questo travestimento da zombie. Quindi ci divertiremo così, facendo un po', come si dice qua a Pistoia e Bischeri. Eh, ok? Bravo, è proprio vero. Bene, io ti ringrazio. Dimmi, vuoi aggiungere qualcosa? Che poi partirà a novembre, ci sono tantissimi appuntamenti, e magari dirveli adesso, poi ve ne dimenticate anche, ma posso dirvene uno che sicuramente agli ascoltatori delle Radio Libere piacerà, il ritorno dei Killer Queen per una serata Killer Queen. Quindi questo succederà il 9 di novembre, però per essere aggiornati, per sapere tutto quello che succede al Santo Matolive, basta andare sulla nostra pagina ufficiale, che è Santo Matolive Club, oppure andare sul nostro sito, che è www.santomatolive.it. e il sottoscritto, collegandomi al discorso moda, si è, diciamo, buttato in una nuova esperienza, una nuova attività. Quindi da poche settimane sono, diciamo, il responsabile di un nuovo negozio di abbigliamento da uomo. Non so se posso fare nomi, posso fare nomi? Bene. Allora, mi trovate in Via degli Orafi, quindi in pieno centro a Pistoia, al numero 23, e ho, diciamo, sotto le mie ali protettrici, Nascà Uomo. Quindi se qualcuno vuol vestirsi, può venire a trovarmi, appunto, in pieno centro a Pistoia, quindi facciamo anche due chiacchiere, se vi va potete acquistare qualcosa. Quindi, insomma, la moda, ecco perché ritorna, no, a volte, la voglia di fare le sfilate, ma comunque questa mia, diciamo, voglia giovanile di essere proprietario di un negozio, a questa veneranda età, tornata fuori. Bene, allora, musica e moda, invece di musica e parole, musica e moda. E voglio salutare tutti gli ascoltatori delle Radio Libere di Aliana, come faccio sempre ad ogni chiusura, di ogni serata qui del Santo Mato Live, faccio sempre questa cosa qua, perché se non la faccio, poi la gente, insomma, murmura, brontola. Allora, grazie a il gruppo che era sul palco, anche questa sera abbiamo suonato e il pubblico risponde live. E come saluto finale è che il rock sia con voi. Let's rock! Bene, ti ringrazio, e io vi ricordo che per rivedere, di ascoltare questa intervista, potete collegare al nostro sito web, radiolibere.com, su YouTube, e ti ringrazio, Toni, grazie tante, ciao. Volevo fare complimenti a Daniela, che mi ha detto che è alle prime interviste, ma sei bravissima, quindi hai un futuro da speaker ufficiale delle Radio Libere di Aliana. Mi raccomando, ragazzi, dategli spazio. Ti ringrazio, ciao a tutti. 28 luglio 1976, una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti, che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza.